Beni confiscati alla criminalità è stato pubblicato sul sito del Comune di Battipaglio un nuovo bando per l'affidamento. La determina dirigenziale è quella numero 1629 che rende noto il bando di assegnazione per due immobili nelle proprie disponibilità. I due beni si trovano in via Salvatore Rosa e in via Rosa Iemma. Entrambi, secondo le intenzioni, saranno affidati ad uso gratuito e dovranno essere destinati ad attività a servizio delle fasce più giovani della comunità. Secondo le intenzioni, l'input sarebbe quello di creare luoghi di incontro socioculturali e di aggregazione, offrendo anche concrete opportunità occupazionali a soggetti con situazioni di emarginazione e di disagio sociale. Tutte le informazioni sulla proprietoria dell'ente comunale.